Parliamo di cinema e salutiamo il debutto alla regia cinematografica di Riccardo Rossi Buonasera Ciao Riccardo Che ha portato con sé una delle protagoniste del suo film, Anna Foglietta Buonasera, buonasera Su Riccardo Rossi mi è venuta voglia di fare una ola, posso? Non la vedete ma l'ho fatta Ola Brava Anna Grazie Riccardo La prima volta di Riccardo Rossi Sì la prima volta di Riccardo Rossi alla regia è stata una grande scommessa straordinaria Vinta Vinta grazie Anna che lo dice E io devo ringraziare ovviamente Anna che è stata la prima a essere contattata Perché io pensavo a lei mentre scrivo questo film Quindi sono andato quando ho avuto l'opportunità di avere la sceneggiatura pronta da Anna Vorrei dire in ginocchio, non sembra una follia Ma in realtà Anna è stata granissima, è stata a sentire me Che le spiegavo tutto il film in circa 50 minuti Anna ha detto Penso di farlo, lasciami la sceneggiatura Perché l'ho spiegata Sono uno dei poperiggi più belli della mia vita Mi sono divertita come una pazza Uno spettacolo di Riccardo Rossi solo per me È un privilegio enorme Allora non l'abbiamo ancora detto ma il titolo di questo film è La prima volta di mia figlia Esattamente E lì casca l'asino Lì casca l'asino perché questa storia parla ovviamente di una paura che hanno tutti i padri maschi Nei confronti della loro figlia femmina e tu sai a che cosa mi riferisco Perché il concetto è proprio questo L'uomo purtroppo non sa amare Quindi non c'è l'amore per la madre, non c'è l'amore per la moglie né per la fidanzata Esiste un solo tipo di amore puro e indiscusso che è quello per la propria figlia femmina E quando il padre scopre che la sua figlia femmina sta per fare l'amore per la prima volta Forse, forse Sbrocca Sbrocca E organizza una cena dove Anna ovviamente verrà a rompermi le vuole nel paniere ma non tutte Il sottotiro del film è mai aprire i diari dei propri figli È proprio sì, hai detto proprio bene È una battuta tra l'altro del film Sì, non si guarda mai il diario del film Un padre in certi momenti può farlo Sbagliando ma voglio dire, sbagliando simpato Esatto Senti questo padre che fa il medico della mutua E che entra in campo un po' come un furio all'inizio Un furio di verdoniana memoria Nel senso che all'inizio lo vediamo veramente È un uomo preciso Un uomo preciso che ha cercato con la sua precisa maniacalità Di rimanere un po' aggrappato a certe cose della vita Sai l'ordine comunque è un grande scoglio a prudare va detto È uno dei pezzi che io preferisco del film Perché rappresenta una tipologia di uomo Solitamente da quale si rifugia Invece è una tipologia di uomo che io adoro Perché sono quelli più buffi Ah non lo sapevo Sì, mi sono sposata la Shassana che mi merito è discretamente buffo Però tu lo sai estremamente Ed è la parte del film che preferisco Perché è un po' anche più che verdoniano A me sembra più morettiano Perché ha delle fobie, delle paranoie Quasi un pochino autistiche Esatto E mi piacciono moltissimo Grazie Una dichiarazione d'amore Tutto rispetto ai grandi moretti Che magari si sente dare dell'autistico No, no, no Gli lo sto dando a Riccardo Ho detto di moretti Ma Riccardo si deve offendere Anni moretti no Ma poi penso che lo sappia appunto Non è che glielo dico io Allora il panico da padre Ma il panico da madre Per un'evenienza come questa Cioè oppure no Tu sei mamma Sì io sono mamma Però no, no, no In questo senso Sono ancora amiccole No, no, no Ma non per quello Non lo vivrei Perché dice giustamente Riccardo L'amore che un padre Nutre per la propria figlia femmina È una cosa completamente diversa Da quella che potrei nutrire io Per i miei figli Che anzi i maschi Devono diventare autistalloni La figlia poi alla fine Voglio dire Rifarà le cose che ho fatto io Quindi una madre Poi è molto più comprensiva È sempre molto più accomodante Di un padre che invece Soffre insomma Di più da questo punto di vista Perché non sa gestire Questo sentimento Non sa gestire No, perché siete insomma Comunque degli esseri Leggermente inferiori No, no Non leggermente Inferiori e basta In realtà nel film Voi lavorate insieme Ed Anna Foglietta Fa un po' Il contrappeso Del principio Perché io sono Un allopata E lei diciamo Che è un omeopata A me piace La medicina Tradizionale Infatti Quella ha battuto Mi piace tanto Perché tu non è stato medicina Per cui tu dovresti capire Che i medici Vanno amati E basta Che è vero Un po' più il concetto Delle persone anziane Che si rivolgono al medico Come se fosse un guru Ecco Il personaggio interpretato Da Riccardo Che si chiama Alberto Non a caso Perché il suo Il suo mito È assolutamente Alberto Sordi Quindi è pieno di citazioni cinematografiche Il film di Riccardo Che per i cinefili Si possono cogliere Per insomma Le persone un po' meno Anche il nome del medico Della mutua Anche il nome Della clinica Del centro anziane Silvio Magnozzi Indimenticabile protagonista Di una vita difficile Che qui a Radio Città Futura Conoscete molto bene Comunque Stavo dicendo Sono due personaggi Completamente agli antipodi La mia è una di quelle Che ha un approccio Poco deontologico Nei confronti della medicina E cura Prescrivo la Sambuca Sì prescrivo Sambuca Perché dico Ma se una vecchietta Beve un goccio di Sambuca Più e campo un giorno di meno Ma che cambia Forse campo un giorno di meno Ma è più felice No quindi insomma Questo vale per tutti Vale per tutti Nascuto Insomma è un inno Al godersi la vita Mentre il personaggio di Riccardo Non è molto più introiettato Esatto Ma poi alla fine del film Che succederà C'è uno showdown Ma guarda Un momento bellissimo Di altissimo cinema Non lo svegliamo Comunque Le prime volte Che vengono raccontate In quei flashback Insomma Sono prime volte Abbastanza da imbranati Un po' tutti quanti Io credo che la prima volta Un pochino Per tutti Sia un'esperienza Da dimenticare O da ricordare con tenerezza Ma di certo Nessuno di noi Penso abbia fatto Una prestazione Incomiabile Anche perché L'uomo è comunque Un ragazzino E quindi purtroppo Ha paura Della performance La donna giustamente Ha paura Della performance De lui Per cui In realtà Cerca anche una cosa Un po' più romantica Di farlo con la persona giusta E quindi Però io vedo Che tutti Quando scriviamo La sceneggiatura Che davamo un po' in giro Come andata la prima volta Eccetera Tutti Ormai Con gli anni Che sono passati L'hanno un po' Infiocchettato Questo ricordo Perché appunto Il tempo è galantuomo E quindi hanno tutti Ben o male Diciamo 9 su 10 Hanno un bel ricordo Diciamo Abbastanza buono Però una costante Delle prime volte Nel film di Riccardo Nella prima volta Di mia figlia Sono È la tenerezza Il romanticismo Riccardo ha indugiato In una maniera Molto delicata E poetica sui baci Di questi ragazzi È una cosa che si vede Rappresentata sempre meno Al cinema Ricordo più Di un cinema anni 50 Ci sono questi baci Tenerissimi Appassionati Che sembrerebbe Inneggiare a un amore Eterno Che potrebbe durare Per tutta la vita È una cosa molto bene In adolescenza Baci che duravano Sì Mezza giornata E questa è una cosa bella Da vedere rappresentata Al cielo Su questi primi piani Vedi questo schermo Pieno di baci È una cosa bellissima Bravo Riccardo Grazie Anna Grazie mille Sto facendo troppi complimenti Basta Anche se Il ragazzo Che capita a te Nel senso Nel tuo personaggio Bravissimo Un attore bravissimo È veramente Il più tamarro di tutti Adoro Adoro Che si alza dal letto Dopo aver fatto il lavoro Tutto un po' intortato Di birra Di fumo Di hashish Tutto che Potessi mettere le dita nel naso Un essere orrendo Un po' shrek E infatti Lei si era piuttosto schifata E diceva Forse veramente Ho sbagliato tutto Però insomma Capitava Capitava Anche a me Capitava di frequentare Quelle cantine Con le amiche Le cose ai musicisti Le cose insonorizzate Con le uova Con le scatole Delle uova di cartone Esattamente Ma lo sai che Chiedendo sempre in giro Comunque sono delle ragazze Che non hanno Un buon ricordo Della prima volta Perché per molte Per molte Era anche veramente Un volersi togliere Un po' Il pensiero C'è stata questa cosa Entrare nel club Delle non più vergine Perché c'era quella Capito La più sgamata Di classe Che l'aveva già fatto Che quindi però I uomini erano anche Più grandi Capito Ovviamente Non si faceva Con il pischello Si faceva con quello Che si credeva maturo Io mi ricordo Questa cosa Santo abbiamo un'ora e mezzo Allora tu pensa Quella di classe Che mi piaceva Che ieri Prima dal cinema Riccardo ha una serie Di amiche femmine Solo femmine Esatto Però questa Eravamo proprio piccole Al ginnasio Io mi ricordo Che lei con me In discoteca Non ci voleva venire Perché io non gli piacevo Parliamo del much more Mitica discoteca di Roma Via Luciani Vabbè Ero è tornato cinema Le Roxy Per capirci Io mi ricordo Quando andai In discoteca Probabilmente con mia cugina Perché Alla fine Per andarci con una ragazza Dei chiamare tua cugina Che alla fine veniva Io mi ricordo Che cosa non ho provato A vedere questa ragazza E mi piaceva Cristina Abbracciata Io avevo 17 anni A uno che ne aveva 21 E io ho detto Ma è un uomo Ho un senso di Un senso di Io ho detto Oddio Oddio Cristina Perché stai con quel mostro E non stai con me Potrebbe essere tuo padre Potrebbe essere tuo padre Un anno Quando ne hai 17 È tantissimo Ma a me Un boato Un'enormità Quello guida la macchina Può votare Può andare in galera Vota per il senato Esatto Abbiamo sentito prima Nella clip Le voci di Stefano Fresi E di Fabrizia Sacchi Che dobbiamo salutare Stefano Fresi Debutta del teatro La Sacchi invece Se la svinisce con sto teatro Sta sempre in giro Basta Stufato Una bravissima attrice Usatela di più i registi Che è una grandissima attrice E poi c'è questa ragazzina Che fa tua figlia Che ha una faccia incredibile Benedetta Gargari Fantastica Bravissima Tra l'altro Che si è trovata al tavolo Con quattro vecchie volpi Si può dire così E che è stata veramente A suo agio E ci ha messo anche A nostro agio Perché noi eravamo anche Un pochino imbarazzati Parlo per me Ovviamente un pochino Imbarazzati Questo cucciolo Di vent'anni Che invece la sapeva lunga È stata bravissima L'ho trovata tramite un casting Ho fatto un super cast Con Sara Casani Cast di director straordinario Ho fatto un super cast E lei devo dirti Che ha vinto questa cosa Perché aveva una dolcezza E un'affettuosità spontanee Che mi hanno conquistato A un certo punto Si dice Giovanotti è vecchio Beh è una battuta Che in realtà Non è vera Nel senso che Giovanotti Fa degli album straordinari Ancora oggi Quindi ho vinto Però c'è una gag Nel film In cui è uscito Una canzone vecchia Di Giovanotti Questa è la verità Che è i giovani Anzi vogliamo sentire La chissà se ce l'avete I giovani hanno i capelli lunghi Le basette come cespugli I giovani girano per la città E sulle magliette La verità Credo forse È il primo disco No è il 90 Credo è Lorenzo 90 Lorenzo 92 Comunque un grande pezzo Che è uscito Perché mi ero preparato Con i testi per i giovani E Anna invece Mi sbugiarda E dice Sì La conosco Questa è una canzone Di Giovanotti Ma perché la conosci? Sì Ma è vecchia Quanti anni avevi? Avevo 15 anni Esatto E io la cito Per sedurre mia figlia Renditi conto È un pezzo tenerissimo Per trovare un po' di complicità Con la tua figlia Esatto Cito un pezzo Vecchio di 20 anni Con Lorenzo Giovanni Però poi dopo Il personaggio interpretato Da Benedetta Bianca Lo dirà Dirà papà Guarda che lo scaltiamo Anche noi Giovanotti Non è vecchio Perché effettivamente È un artista Che è riuscito A conquistare Tantissime generazioni Sì Ci sono Anzi aspetta Voglio ringraziarlo Che ci ha permesso Di usare questa Grande autoironia Grazie Lorenzo Perché non tutti si prestano A fare questi giochi nel cinema Sarà pur anziano Ma è una brava persona Ma che dici? Quando andrete al cinema A vedere il film Questo weekend Restate seduti Anche durante i titoli di coda Esatto Perché Perché ci sono Delle interviste Sì Che tu hai fatto E in questo caso Non sono attori Esatto Che sono Sono divertenti Sono reali Perché io Ovviamente Tutti gli attori Che avevano una posa Nel film Gli ho chiesto Per favore Come era andata La loro prima volta Quindi a me Mi dicevano la verità Gli ho detto Ma la ridiresti In macchina da presa E lì Ovviamente Ormai si erano Diciamo Esposti E quindi sono Le vere loro prime volte Pensa che roba Infatti c'era un finalissimo Devo dire Estremamente divertente Nel quale il cinema Solitamente parte D'applauso Perché veramente È un finale L'ultima battuta del film Sì L'ultima battuta del film È veramente molto divertente È autentico Questo giro promozionale Vi avranno chiesto tutti Com'è stata la vostra prima volta Immaginiamo No perché no Ma guarda È molto Come ho detto prima Insomma Non deludente Però insomma Era più un modo Per dimostrare Le mie amiche Che anche io Ero entrata nel club E quindi Proprio a fine La fine della prestazione Ho detto Tutto qui fatto Mi posso alzare Vado a telefonare Aiaia Non ora Caterina Federica Quindi ho messo Conference call L'ho fatto Come è andata Insomma così e così Però l'ho fatto Benvenuta nel club Grazie Sì infatti Mentre io sono stato fortunato Perché ho avuto l'intelligenza Di dichiarare Oh per me la prima volta Non so fare niente E lei ci penso io E straordinaria Le donne L'accoglienza delle donne Veramente pazzesca Siamo fatte Siamo fatte così Infatti Che meraviglia Ma l'idea come ti è venuta Perché c'hai Sturgenza Di debuttare al cinema Con un tema così Ma guarda In realtà No io cercavo Una storia per il cinema Da proporre Ove me l'avessero chiesta Poi in realtà Si è sviluppata Velocemente Con Luca Infascelli E Chiara Barzini Io avevo proprio in mente Di raccontare appunto La prima volta Perché per me Era un tema universale Quindi diciamo che Volevo un po' sedurre Un fantomatico produttore Con questo tema E poi Abbiamo scritto Tutta la storia E quando poi Mi è capitata Mi è arrivata L'occasione Di proporla La recina Ma loro l'hanno accolta E mi hanno detto Se volevo dirigerla In realtà L'ho chiesto io Perché Mentre la scrivevo Appunto con Gli sceneggiatori Loro vedevano Una certa mia Propensione Alla ricerca Però questa Bisogna farla così Questa cosa Avevo già un po' In mente la cosa Quando recinavano Me l'ha chiesto Ho detto Se voi se la sentite Sarei pronto E' andata bene E' andata bene Io mi chiedo I giovani di oggi Gli adolescenti Scrivono ancora il diario Oppure molte di quelle cose Scritte sul diario Si spostate magari su facebook Allora guarda No Loro sanno benissimo Qual è anche il limite Di facebook Tolti casi di cronaca Dobbiamo affrontare Certi in questa serie Tuttavia Vi dico che invece Il diario Viene proprio ancora Utilizzato tantissimo Come proprio custode Dei propri segreti Più intimi E io intimo A tutti i genitori All'ascolto Di Radio Città Futura Non aprite questo diario Anche perché Se lo aprite Il titolo è un film dell'orrore Anche perché Se lo aprite Potreste correre il rischio Di trovarti davanti Un fake C'è un diario falso Scritto apposta Come alcune ragazzine Ci hanno detto No Io ne ho due diari Uno per i miei Che lascio in giro per casa E uno nascosto Sotto la terza mattonella a destra Dei perché contando 15 Oppure con l'ucchietto Con la combinazione Esatto Paura Molta paura Molta paura Sì perché io penso Nessere abbastanza scaltra Ma loro ne sapranno Sicuramente più di me Perderò colpi A un certo punto Grazie Riccardo Rossi Grazie Anna Foglietta Ciao a tutti Andate al cinema Ciao a tutti Grazie Ciao a tutti 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 Grazie a tutti